Tartarughe Ninja della IDW numero 14. Torniamo a parlare della serie regolare nella mia retrospettiva fino ad arrivare ai numeri odierni. Continua la guerra su il pianeta neutrino. Wabadabadabab e bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica fumetti, nella rubrica Tartarughe Ninja. Innanzitutto, come già avvisato nella scheda community, mi scuso se questa settimana sono stato un po' assente su YouTube, ma per fare i video ho bisogno della voce, della gola, della salute e questa settimana non ci sono. Però cerco almeno di darvi il video delle Tartarughe Ninja che già settimana scorsa avevo saltato perché già iniziavo a non stare bene. Mi sono reso conto che siamo un po' indietro, insomma, siamo al numero 14, dobbiamo arrivare al numero 49 e voglio farlo entro un anno massimo, grossomodo, quindi cerchiamo un attimino di recuperare. Prima di cominciare, se ancora non l'avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o un non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega, di condividere il video con tutte le persone che vivono sul pianeta neutrino e commentate qui sotto con quello che viene parso di questo video e di questo numero. Seguitemi anche su Instagram e su Twitch per vedere se faccio altre cose oltre a YouTube. Mi sono reso conto di avervi lasciato più di un mese, forse anche quasi due mesi, dal numero 13, fondamentalmente, dove era scoppiata questa guerra sul pianeta neutrino, tra i neutrini e gli utrom, il pianeta utrominon, comandati, capitanati dal generale Krang. Perché nel frattempo abbiamo parlato dei crossover con Batman e del numero 53, che è finalmente uscito dal bimestrale. Vi ho lasciato fondamentalmente sospesi durante una guerra per due mesi. Non oso immaginare come possa essere nella realtà chiusa polemica. Fatto sta che questo numero fondamentalmente parla tutto di questa guerra, di come si sta combattendo. Non c'è moltissimo da dire, ma mi è piaciuto molto come si sono un po' divisi i compiti le nostre amate tartarughe. Innanzitutto abbiamo Michelangelo che si è invaguito della principessa dei neutrini, come era successo anche nella serie a cartoni animati. Almeno io non ricordo bene questa cosa. Sapevo che c'era questa... Vedete questa ragazza qui? Ero convinto che fosse, diciamo, cotto di questa ragazza, non della principessa. Però scrivetemi qua sotto se ho cattiva memoria su quella serie a cartoni animati. C'è il professor Honeycutt che finalmente ha svelato la sua identità. Ma è un neutrino che ha dovuto travasare la sua coscienza su un corpo robotico per poter sfuggire agli utrom nel suo primo tentativo di teletrasporto. Dato che il teletrasporto non era ancora efficace sui corpi biologici, ha trasferito la sua coscienza sul corpo di silicio del fuggitoide per riuscire a scappare. E ora lì c'è rimasto. Però ecco, riesce anche a cambiare forma, quindi quando vuole riesce a assumere le sembianze dello scienziato Chet, che ha contribuito in un certo senso alla stock gen anche alla nascita delle tartarughe ninja. Poi vediamo appunto Donatello e Leonardo che vogliono un pochino capire cosa sta succedendo e fondamentalmente, come c'era da supporre, Donatello affiancherà gli scienziati neutrini per la parte tecnologica, mentre Leonardo affiancherà i combattenti militari neutrini per la parte tattica, dal momento che c'è bisogno di un'operazione molto sottile e dove non ci sono bisogno di militari ma appunto di ninja che si muovano nell'ombra. Quindi, mentre ci sarà comunque un'operazione militare che funzionerà da diversivo, quindi un attacco diretto agli utrom e verrà gestito appunto da uno dei neutrini insieme a Raffaello, che appunto è quello più impetuoso che quindi va più di testa verso il nemico, Leonardo e Michelangelo si occuperanno appunto di questo attacco tattico ninja, mentre Donatello continuerà ad aiutarli sulla tecnologia per poi appunto arrivare in aiuto con un'arma che ha costruito insieme al fuggitoide che li aiuterà a fondamentalmente annullare la frequenza di tutte le armi. Sono ovviamente tutte armi laser stile guerre stellari, chiaramente lo si può intuire da questa fantastica tavola qua all'inizio, di conseguenza hanno una qualche sorta di frequenza elettronica che con l'arma finale del fuggitoide riescono comunque ad annullare diciamo questa frequenza e ad annullare quindi l'utilizzo delle armi del nemico. Quanto sarebbe bello se questa cosa si potesse fare anche nella vita reale. Purtroppo però Krang è molto 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 furbo e non ha impostato le proprie armi, le proprie pistole della sua armatura, del suo esoscheletro su quella stessa frequenza. Di conseguenza a un certo punto tiene sotto scacco se non sbaglio Michelangelo e rischia di fargli saltare le cervella. Di conseguenza il fuggitoide accetta comunque di andare con Krang per aiutarlo a costruire il tecnodromo. Ma questa comunque non è una sconfitta. In tutto questo l'operazione che ci siamo lasciati alle spalle nel numero 13 era salvare il re e la regina del pianeta neutrino. Questa operazione è andata a buon fine. Le tartarughe ninja e i neutrini hanno salvato i loro regnanti ma una volta salvati loro il fuggitoide per evitare che si spargesse altro sangue ha deciso di andare con il nemico come Krang inizialmente voleva. Lui vuole il fuggitoide perché lui riuscirà a costruire il tecnodromo che è un'arma che in questo momento si trova a Barnaw Island che ci fanno capire in questo numero che Barnaw Island si trova praticamente in mezzo all'Atlantico cioè tra l'America settentrionale e l'Africa occidentale in mezzo al nulla fondamentalmente. Però il tecnodromo è lì e una volta costruito riuscirà a terraformare tutta la Terra. Terraformare significa che quest'arma riuscirà a creare l'atmosfera che c'era sul pianeta Outrom e di conseguenza noi terrestri non riusciremo più a respirare l'aria che ci sarebbe sulla Terra, di conseguenza ci farebbe estinguere questa operazione. Il fuggitoide appunto va con Krang ma sprona le tartarughe ninja a fare di tutto per cercare di mettergli i bastoni fra le ruote, di distruggere l'operazione che lui stesso contribuirà a controvoglia a completare. Sempre in un fantastico discorso tra il fuggitoide e Donatello prima appunto della battaglia finale c'è stata una piccola disquisizione sul fatto appunto che Donatello è scettico sulla loro origine metafisica, sul fatto che secondo il suo maestro, suo padre, loro e Splinter sono appunto le reincarnazioni di una famiglia del Giappone feudale e lo trova da pazzi. Chat li fa capire che attraverso un discorso scientifico sul teletrasporto e su come in realtà il teletrasporto della sua tecnologia non sia altro che un taglia e incolla laddove la versione originale, gli atomi, le molecole della versione originale vengono disintegrati e copiati e incollati nella destinazione finale, sarebbe diciamo quantomeno di mentalità chiusa non supporre che possa essere successa la stessa cosa a livello fisico anche alle loro coscienze in un certo senso invece che nello spazio attraverso il tempo. Quindi fondamentalmente ragguarda Donatello dicendogli va se pensi che sia assurdo sei un po' non sei un vero scienziato fondamentalmente gli dice Donatello dice sì beh ma non ci sono prove empiriche non riesco col metodo scientifico a capire questa cosa e Fuggitori dice non riesci neanche ad escluderlo però e questa è la faccia che fa Donatello. Ovviamente nella vita reale tutto ciò non avrebbe un senso scientifico però mi piace che nella finzione fumettistica questa cosa apro un po' la mente a Donatello che è sempre così pragmatico quantomeno su tutto ciò che è sperimentabile e tangibile e tutto ciò che è scientifico. Mi è piaciuto un po' questo dialogo che è quello che spicca un po' su tutto, tutto il resto è battaglia ma comunque una battaglia mostrata davvero bene. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino a qui con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video delle tartarughe ninja che sarà settimana prossima, settimana prossima parleremo anche di Buffy e recupereremo il retro Dylan che doveva essere il 25 aprile ma purtroppo non sono riuscito a fare il video quindi restate sintonizzati. Arrivederci. Grazie.